Vai! Eccolo! Buona! 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 Buonissimo! E' un piatto pronto! E' un piatto pronto! Nooo! E' un piatto pronto! Si! E' troppo buono poi in questo piattino così! Non è possibile che un piatto pronto! Si è fatto a mano! Si è fatto a mano! Si è piaciuto! Buonissimo! Il mio poi è diverso perché a me me l'ha fatto particolare! E' vegetariano! Senza vincere diciamo... Un po' spezzato! Come cucina bene questa sentia! Come cucina bene! Guarda! 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 Guarda!